buongiorno dio vi benedica a tutti benedetto il nome del signore grande il nostro dio molto giubilo e felicità nel nostro cuore molto amore con il signore molta fiducia in dio le nostre preghiere la lettura della bibbia e le nostre lodi non è così io penso che tutti stiamo facendo questo il signore è felice con questo proposito che c'è nel nostro cuore potete sedervi un cordiale saluto alle persone che si stanno unendo alle trasmissioni che sono recenti una felicità immensa condividere con voi e sapere che tutto è promessa dello spirito santo che non è un caso che voi siete qui unendovi alle trasmissioni perché la volontà del signore ed è tanta la volontà di dio che una persona in questi giorni ha perso l'impiego ed era così disperato che come ha cominciato a pensare a togliersi la vita e in mezzo a questa cospirazione pensiero è andato su internet a cercare il modo scusate la testimonianza molto forte e cercava come farlo e quello che è uscito è uscito è uscita la trasmissione della chiesa e dio ha avuto questa bontà infinita di muovere il suo cuore perché lui rimanesse lì nella trasmissione vedesse tutto l'insegnamento della sorella maria luisa e alla fine lui ha sentito un altro sentimento nel suo cuore che qualcosa era successo nella vita e vedeva appunto la vita con altri occhi e ha desistito dall'idea di togliersi la vita tutto è cambiato perché il giorno successivo lo hanno richiamato nell'impiego e gli hanno offerto di tornare al lavoro e oggi non si perde nessuna trasmissione benedetto il nome del signore è una meraviglia dio è grande dio è meraviglioso dio è buono e onnipotente e una sorella della chiesa che viene da tempo in chiesa una familiare si è ammalata e ha avuto problemi di salute l'hanno portata all'ospedale e lei non sapeva quello che stava succedendo e pregava però dio l'ha consolata e di notte si è sognata che la sorella arrivava in casa e le diceva di non preoccuparsi non ti preoccupare che io sto bene e lei si è svegliata felice con questo sogno perché sapeva che era un sogno dato dallo spirito santo da dio e dopo che si è svegliata due ore più tardi ha ricevuto la chiamata dall'ospedale dove le confermavano che la sorella stava bene di salute e di andarla a prendere e lei nel sogno vedeva la sorella che era vestita con un colore determinato e quando la vedeva si rallegrava molto e dammi un po' di crema che è come burro di cacao e quando andate a prenderla all'ospedale è successo lo stesso episodio lo stesso vestito la stessa richiesta del burro di cacao hai un po' di burro di cacao e questa è come una fantasia realmente alleluia gloria al nostro dio gloria all'altissimo e se rimaniamo senza parole per elogiare il potere la grandezza del nostro signore e la grande misericordia che dio in questi tempi si degna di darci queste esperienze che sono scritte nella bibbia con visioni sogni il dono della profezia questo il grande regalo la grande benedizione la grande beatitudine vi invito in piedi e leggiamo nella nostra bibbia oggi insegniamo riguardo all'impegno con dio impegnarci con dio questo è il titolo della predica ed ha come base una profezia recente nella quale lo spirito santo attraverso la sorella maria luisa diceva sto vedendo che tanti si stanno impegnando con me e allora vediamo cosa consiste cosa consiste questo che dice lo spirito santo vedo che tanti si stanno impegnando con dio ci stiamo impegnando con dio e vediamo un esempio di questo impegno con dio e questa decisione questa decisione nell'antico testamento nella nel libro di ruth leggiamo nell'antico testamento nel capitolo numero 1 del libro di ruth dopo il libro di giudici troviamo questo meraviglioso libro nel capitolo numero 1 root capitolo numero 1 leggiamo nel verso numero numero 15 root 1 15 leggiamo per esaltazione gloria dell'altissimo che tutti siamo lì dopo il libro di giudici libro di ruth verso 15 nel capitolo 1 allora naomi disse a ruth ecco tua cognata è tornata al suo popolo ai suoi dei torna indietro anche tu come tua cognata ma ruth rispose non insistere con me perché ti abbandoni e lasci di seguirti perché dove andrà io andrò anch'io e dove sarai tu io pure sarò il tuo popolo sarà il mio popolo il tuo dio sarà il mio dio dove morire tu morirai tu morirò anch'io e lì sarò sepolta così mi faccia all'eterno e anche peggio se altra cosa che la morte mi separerà da te e guardate verso 18 questo è l'impegno così deve essere il sentimento nostro con dio e quando no naomi si rese conto che ruth era decisa a seguirla smessa di parlare con lei potete sedervi queste parole di ruth sono commoventi perché così lei si è espressa in relazione con sua suocera che era naomi come sarà il modo di esprimerci con il signore con il nostro creatore con il dio vivo se le disse se le disse in questo contesto ruth a naomi perché aveva perso il marito e lo stesso loro si erano sposati con i due figli di naomi sono rimaste vedove e naomi è rimasta senza i figli e lei ruth senza lo sposo e lei è tornata verso la sua nazione e nel caso di ruth lei era disposta ad andare con naomi e gli ha detto dove vai io vado e il tuo dio sarà il mio dio e io rimarrò con te e niente ci separerà e questo è quello che noi possiamo dire al signore perché ruth non era del popolo di israele ma era di moab e lei ha creduto nel dio di israele e ha creduto nel dio di naomi e lei era disposta ad accompagnarla e a seguire il tuo dio per questo le disse il tuo dio sarà il mio dio nel verso 16 ha creduto in questo dio e questo è l'impegno l'impegnarci con dio con il signore cominciare a credere e avere questa sicurezza questa fiducia che dio esiste e che in aggiunta l'avrebbe accompagnata fino alla morte come noi ci impegniamo con il signore a seguirlo fino all'ultimo giorno della nostra vita per questo dice nel verso 17 dove morirai tu morirò anch'io e là sarò sepolta così mi faccia l'eterno perché lei credeva in dio l'eterno è dio e che così mi faccia l'eterno di amora di adorare il dio che tu adori e lei si era impegnata così con una decisione molto molto ferma perché nel verso 18 perché era tanto decisa che Naomi non ha poi potuto dirle nulla e così sicuramente succede a noi che siamo così decisi che il signore si compiace moltissimo e le nostre famiglie a vederci decisi sicuri e della presenza di dio nella nostra vita le nostre famiglie vedono questo esempio in noi e si sentono attratte e ammireranno questo il desiderio di cercare di dio ma se ci vedono molto tiepidi senza decisioni tanto non tanto decisi nessuno crede però se noi siamo decisi e credendo davvero nel signore dio vi benedirà molto per esempio ruth è stata benedetta tanto e attraverso ruth è stata benedetta Naomi e da ruth viene da questa unione che c'è stata tra ruth e obed viene isai e da lì david davide e da lì il signore gesù cristo e le grandi benedizioni si costruiscono così quando uno è estremamente deciso quando uno ha dubbi ed è dubbioso come si no chissà o come dice la bibbia né freddo né caldo e non prende nessuna decisione allora non c'è manifestazione di dio ma quando uno è deciso lì il signore sta benedicendo e lì si costruisce la grande benedizione e che è la vita spirituale lì comincia la benedizione del signore e possiamo dire che impegnarci con dio ha diversi componenti primo componente credere in dio essere uno estremamente deciso con il signore la seconda componente che uno vuole aggiungersi al cammino di dio a questa verità e aggiungersi alla chiesa aggiungersi a questa dottrina a questi insegnamenti questa è la seconda caratteristica e la terza caratteristica è che a causa di questo dio inizia ad agire nella nostra vita a liberarci e viene una grande liberazione una grande trasformazione una vita spirituale meravigliosa che dio ci dà come premio e questo produce una grande soddisfazione perché viene un cambiamento di vita per uno impegnarsi con dio e la quarta caratteristica è che le persone si focalizzano nella vita eterna nello spirituale nel ricevere i doni spirituali e proteggere la salvezza della nostra anima questi quattro punti sono meravigliosi e se qualcuno si impegna con dio per questo lo spirito santo diceva vedo tanti impegnarsi con me e lo spirito santo diceva vi sto vedendo vi sto ascoltando perché c'erano diceva lo spirito santo anche persone che si burlano e questo succedeva sin dalla dall'epoca antica però ci sono persone che credono con il cuore e quelli sono quelli che si stanno impegnando con dio e dio è molto felice con questi perché li sta vedendo li sta ascoltando quello che dicono quello che sentono quello che esprimono ogni volta che vedono le trasmissioni che ricevono i messaggi e questo è qualcosa di grande di spirituale ed anche arrivano benedizioni materiali in aggiunta ma sappiamo che la prima parte è credere con il cuore e prendere questa decisione essere estremamente decisi come è stata Ruth in quel periodo che dice che Naomi l'ha vista tanto decisa che ha detto io non dico più niente e allora chi è deciso a credere nel Signore io credo che tantissimi la maggior parte diciamo il 99% d'accordo? e c'è l'1% che si deciderà perché sia il 100% e questo è quello che desideriamo tutti che tutti siamo decisi nel Signore e crediamo nel cuore con un cuore fervente con un cuore che gioisce e ammira il potere del Signore vediamo nella Bibbia esempi diversi esempi quando voi potete quando voi leggete la Bibbia cercare anche esempi come le persone hanno creduto nel Signore e il Signore sempre diceva la tua fede ti ha salvato e questo era il significato di dire hai creduto nel tuo cuore e ti sei salvato perché l'ha salvato dalla malattia per esempio o l'ha salvato dal peccato e ricevuto il perdono o collegato alla vita eterna alla salvezza stessa e si loggia sempre da parte del Signore Gesù Cristo la fede che la persona ha creduto ed è deciso leggiamo Matteo capitolo numero 8 l'esperienza che ha vissuto il centurione che era romano non era giudeo e era un soldato che aveva questo rango questa categoria Matteo capitolo numero 8 e si era ammalato una persona che lavorava con lui che lui apprezzava tanto e lui ha visto che l'unica soluzione era affidarsi al Signore credeva nel Signore e ha chiesto al Signore di guarirlo e il Signore gli disse che poteva andare a pregare direttamente per questa persona che era malata e il centurione gli ha detto no Signore non c'è necessità basta che tu dici che sarà guarito e col solo fatto che tu parli lui guarirà e oggi lo stesso succede a noi che non possiamo congregarci in questo periodo fisicamente ma ci congregiamo virtualmente e allora crediamo pienamente che Dio farà questa guarigione con la sola parola della profezia generale della sorella Maria Luisa con la sola predica o le sole parole o solo desiderio della nostra sorella che dice che Dio vi benedica che Dio vi aiuti che Dio abbia misericordia di voi con solo queste parole siamo benedetti così è successo a tre persone che non potevano avere figli non potevano concepire e alla prima le ha mandato un messaggio la sorella Maria Luisa vedi la trasmissione e Dio la benedirà nella preghiera perché possa concepire ed effettivamente è rimasta incinta dopo questa persona ha raccontato a un'altra persona vai alla trasmissione segui la trasmissione questa persona ha seguito la trasmissione ed è rimasta incinta e poi questa ha raccontato un'altra che non poteva rimanere incinta e ho guardato la trasmissione ed è rimasta incinta è meraviglioso è bellissimo è qualcosa di irreale sembra irreale ma è il fondamento perché le persone credono e si sforzano e mettono del loro e dicono io credo che vedendo il video la trasmissione e mettendo tutta l'attenzione nella preghiera apro il mio cuore credo che Dio sta qui e che Dio fa miracoli attraverso la trasmissione e Dio premia questo così come ha premiato questo centurione che ha detto è sufficiente che tu dici una parola non devi venire a imporre le mani nulla semplicemente a larga distanza in un modo remoto possiamo dire da lontano con la sola parola perché Dio non ha limiti così dobbiamo pensare questo essere decisi e questo è impegnarsi con il Signore avere questo pensiero questa credenza questa sicurezza questo è il punto di partenza per tutti ed è quello a cui vi invito ed effettivamente le disse nel verso 7 nel 6 gli dice il centurione Signore il mio servo giace in casa paralizzato e soffre grandemente Gesù gli disse io verrò e lo guarirò e nell'8 il centurione disse Signore io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto e poi gli dice ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito nel verso 8 e nel verso 10 Gesù gli disse meravigliato in verità vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede questo è quello che al Signore piace e questo è quello che dobbiamo fare quello che significa impegnarsi con Dio credere così con tanta decisione essere così decisi come era deciso nell'Antico Testamento Ruth e nel verso 13 dice Gesù disse al centurione che non ha che non ha visto tanta fede che io sono Dio il figlio di Dio che io sono il Signore va e sia fatto come hai creduto il suo servo fu guarito in quell'istante gloria al nome del Signore nel libro di Marco vediamo un altro esempio nell'Evangelo seguente Marco capitolo numero 7 nel verso 24 e seguenti che qui c'è una donna che si è avvicinata al Signore e questa donna non era del popolo di Israele ma di Tiro e di Sidone entrata in una casa non voleva che alcuno lo sapesse verso 24 questa donna era greca e sirofenica e questa donna ha chiesto al Signore che la guarisse e che guarisse sua figlia che aveva uno spirito maligno nel suo corpo però lei non era di Israele il Signore le disse donna io sono stato inviato a predicare alle pecore smarrite del popolo di Israele fammi dare prima l'alimento a loro questo era il mandato che il Padre Celestiale mi aveva dato che dovevo praticare la legge compierla ed insegnare l'Evangelo e pregare a loro e poi l'altra tappa che si sarebbe formata la Chiesa con i gentili e io mi occupo dei Giudei adesso e poi delle altre nazioni e lascia che i figli mangino il pane che gli sto dando così le ha detto nel verso 27 lascia che si sazzino prima i figli perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini ma questa donna era così decisa era così decisa e credeva nel Signore che lei ha detto al Signore Signore però anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli questa è una risposta meravigliosa è meraviglioso quello che dice la donna Sirofeni e così dobbiamo pregare al Signore per convincerlo e sensibilizzarlo dei problemi che abbiamo delle nostre necessità in questi giorni però prima di questo dice nel verso 28 ma ella rispose e gli disse Si Signore con tutto il rispetto e tutta la reverenza ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli degli israeliti questo è bellissimo allora egli le disse per questa tua parola va il demone è uscito la tua figlia ha premiato la fede il credere e in questi giorni una sorella una sorella della chiesa era preoccupata perché suo figlio era malato era un giovane è un giovane che ha cominciato a presentare sintomi della malattia del covid e lei ha detto no io devo andare all'ospedale prego il Signore vado all'ospedale e quando ha preso la sua auto lei commenta che è andata di notte perché viveva in campagna ed aveva un mezzo di trasporto un'auto e quando da un momento all'altro questo veicolo si è fermato ed è rimasto lì in mezzo alla strada con il figlio malato il veicolo non funzionava e lei dice che per 30 minuti ha cercato di risolvere il problema ma non poteva il veicolo non si accendeva però lei credeva tanto cosa ha fatto lei è scesa dal veicolo e si è inginocchiata sulla strada allora ricordiamo l'insegnamento che ha dato la sorella Maria Luisa che ci dobbiamo inginocchiare per sensibilizzare il Signore per convincerlo come ha fatto questa donna che era sirofenica che lo ha sensibilizzato il Signore e il Signore l'ha ascoltato in questo caso la sorella ha detto che si è inginocchiata perché le risolvesse il Signore questo problema e potesse arrivare all'ospedale con suo figlio perché facessero gli esami e verificassero quello che stava succedendo che lei commenta che dopo aver pregato inginocchiata e farlo con tanta decisione ha ha approvato nuovamente il veicolo si è acceso gloria al nome del Signore e che poi è arrivata all'ospedale hanno fatto le prove tutto quello di cui c'era necessità ed è stato confermato che il figlio non aveva nessun contagio e che stava bene gloria al nome del Signore molta decisione è sempre rivolgersi al Signore e risolvere cercare prima di risolvere noi i problemi però quando non possiamo risolverli noi immediatamente prima di cominciare a risolvere i problemi mentalmente aiutami Signore dammi una via d'uscita anche mentalmente pregare al Signore aiutami a risolvere questo problema e dopo se vediamo che non si risolve ci inginocchiamo o vediamo cosa diciamo al Signore un passaggio della Bibbia o una situazione Signore Tu mi hai promesso che mi benedirai che benedirai la mia famiglia i miei figli cercare sempre un'argomentazione perché Dio ci ascolti gloria al nome del Signore ed anche leggiamo un altro esempio che troviamo nel libro di Matteo capitolo numero 9 leggiamo nel libro di Matteo capitolo numero 9 come la Bibbia ci insegna dice Matteo capitolo numero 9 verso 20 ed ecco una donna affetta da un flusso di sangue già da 12 anni abbiamo ascoltato testimonianze di persone ammalate di 20 da 20 30 anni e si accostò di dietro e toccò il lembo della sua veste perché diceva fra sé se riuscirò se riuscirò anche solo a toccare la sua veste sarò guarita e Gesù voltatosi e vedendola le disse fatti animo figliola la tua fede ti ha salvato e a quell'ora la donna fu guarita e un altro passaggio dei Vangeli dice che il Signore ha detto chi mi ha toccato il mantello e la donna si è sentita ammirata che Dio si fosse reso conto di questo in mezzo a tutte quelle persone in cui si trovava e lei disse il Signore io ho una malattia da tanti anni io ho detto se mi avvicino a te e anche solo tocco un po' il tuo mantello sarò guarita questo è credere essere decisi c'è un passaggio della Bibbia dove dice che è una persona paralitica e non aveva il modo di avvicinarsi al Signore Gesù e allora si ingegnò il metodo per presentarsi davanti al Signore per il tetto della casa hanno aperto un buco dal tetto e da lì l'hanno fatto scendere questa gente era decisa a ricevere la benedizione e allora se dobbiamo leggere la Bibbia la leggiamo se dobbiamo pregare preghiamo quello che sia se dobbiamo cercare i doni li cerchiamo se dobbiamo sforzarci perché Dio ci cambia ci sforziamo avere tanta volontà e tanta decisione ed essere decisi e una Bibbia trova che c'è gente così e oggi in mezzo in mezzo all'umanità c'è gente così che è decisa con il Signore come voi gloria al nome del Signore complimenti questo è quello che dobbiamo fare stare così decisi decisi con il Signore credere in questo modo e oggi anche se lo Spirito Santo ci ha detto su internet vi benedirò sappiamo che è così se nostra sorella Maria Luisa ci dice confidiamo nella preghiera che si fa dal pulpito perché è impossibile imporre mani a tutte le persone perché sono riunioni gli studi biblici di 9000 10.000 persone allora non chiediamo questo alla nostra sorella Maria Luisa in quel momento c'erano moltitudini e non sono le moltitudini di oggi e allora la sorella Maria Luisa ci dice che lo Spirito Santo mi ha detto che con la sola preghiera che io solo prego Dio benedirà a tutti quelli che aprono il loro cuore a tutti quelli che credono e fanno qualcosa che confidano nel Signore e tante volte mettendo la mano nel cuore o la Signora che vuole avere un figlio mette la mano sul suo ventre Signore dammi questo bambino o una persona che ha un problema in un organo del suo corpo che dice il Signore per esempio la testa Signore guarisci la mia testa e si tocca la testa Dio lo vede il Signore vuole vedere qualcosa in voi di questo si tratta e uno non a volte uno non dà tanta importanza però si è molto importante molto importante per esempio leggere la Bibbia cercare il tempo cercare il tempo per pregare quando c'è il problema pensare prima al Signore prima di tutto pensare al Signore e Dio sicuramente metterà nel cuore a chi posso commentare la situazione se dobbiamo per esempio presentare un curriculum per trovare un impiego però prima pregare al Signore e chiedere al Signore e tutti questi dettagli sono espressione di una credenza di essere decisi e l'impegno che abbiamo con il nostro Signore per questo il Signore dice io tutto lo vedo e tutto lo ascolto perché Lui sta osservando il nostro atteggiamento il nostro comportamento leggiamo anche nel libro di Matteo capitolo numero 9 nel verso numero 27 dice nel verso 27 con due ciechi e mentre Gesù partiva di là due ciechi lo seguirono gridando e dicendo abbi pietà di noi figlio di Davide Dio avrà misericordia se le persone riconoscono che Lui è Dio se uno dice Signore io so che Tu stai qui abbiamo ascoltato testimonianze meravigliose noi sappiamo che Tu ti manifesti sappiamo che Tu stai qui con noi Signore abbi misericordia Signore quello che sia guariscimi dammi l'impiego benedici la mia famiglia benedici i miei figli benedici la Chiesa quello che sia quello che chiediamo provvedi ai fratelli alle persone che hanno bisogno del Tuo aiuto se lo facciamo con questa decisione con questa forza con questo riconoscimento che Dio esiste questo Dio lo premia però non solamente che Dio esiste ma come in questo caso che Dio è capace di fare qualsiasi cosa l'impossibile che non c'è nulla di impossibile per il Signore che voi dovete essere convinti che con il Signore con la preghiera con il suo potere qualsiasi cosa nella vita per difficile che sia succederà in noi per questo dice nel verso numero 27 che gli dissero che era il figlio di Davide perché lo riconoscono come Dio e verso 28 quando egli entrò in casa quei ciechi si accostarono a lui e Gesù gli disse credete che io possa far questo è importante questo che voi crediate che Dio è il Dio dell'impossibile che Dio è il Dio onnipotente questo è importante te che non dubiti che non dobbete del potere di Dio che non limitate Dio che siate convinti che Dio può fare qualsiasi cosa può trasportare un monte al mare quello che sia con il Signore non ci sono limiti e dice il Signore gli chiese credete che io possa fare questo e si risposero sì Signore io credo che tu puoi risolvere il problema che sia e allora egli dò colo i loro occhi dicendo vi sia fatto secondo la vostra fede e i loro occhi si aprirono verso 30 poi Gesù ordinò loro severamente dicendo banate che nessuno lo sappia il Signore voleva che fosse così ma essi usciti fuori divulgarono la sua fama dobbiamo divulgare la fama del Signore dire a tutte le persone meraviglie che il Signore fa inviare le trasmissioni come hanno fatto queste sorelle che hanno inviato e hanno detto di entrare nella trasmissione che Dio fa miracoli e cominciarono a vedere le trasmissioni e Dio le ha dato la benedizione di rimanere incinta però oggi con questo impegno con il Signore stanno avanzando si sono giunte in chiesa e hanno fatto questo passo importante e leggiamo nel libro degli atti degli apostoli capitolo numero 8 una persona che non era del popolo di Israele però era aperto a credere al Signore deciso di compiacere il Signore perché questa persona era un funzionario della regina degli Etiopi e lui veniva appunto dall'Etiopia non era del popolo di Israele però Dio ha voluto dare l'opportunità di essere evangelizzato da Filippo come Dio sta dando l'opportunità a voi di di ricevere benedizioni come la persona che voleva suicidarsi ed è entrato in internet e ha visto la trasmissione della Chiesa Dio gli ha voluto dare l'opportunità e tutti stiamo approfittando dell'opportunità gloria all'Altissimo e come non approfittare di questa benedizione e noi ci impegneremo con il Signore d'accordo? Crederemo nel Signore con tanta decisione crederemo che Dio esiste che Lui è onnipotente per concedere le nostre richieste tutto in base alla Sua volontà quello che ci conviene ed anche noi apriamo il nostro cuore e crederemo nell'insegnamento perché questo uomo era stava leggendo il profeta Isaia però lui non comprendeva bene quello che diceva Isaia perché stava leggendo appunto un passaggio di Isaia dove dice come nel verso 32 come una pecora e come un agnello è muto davanti a chi lo tosa così egli non ha aperto la sua bocca nella sua umiliazione il suo giudizio fu tolto via e lui voleva sapere se lo aveva vissuto il profeta Isaia o si riferiva ad un'altra persona e Filippo mosso dallo Spirito Santo lo ha evangelizzato però la prima cosa che ha trovato un atteggiamento disposto aperto non c'era arroganza non c'era orgoglio di dire io so cos'è io so com'è quanta gente oggi la gente non sa che nei salmi sta parlando il Signore Gesù apparentemente sta parlando il salmista Davide ma sta parlando il Signore Gesù però uno dice io so tanto ho letto la Bibbia tante volte ho letto sette volte la Bibbia sono stato in accademia e non accetto che nessuno mi dica nulla ho fatto un corso di teologia che bello analizzo si ha senso questo atteggiamento Dio lo premia tantissimo e ci sia umiltà mansuetudine sempre per ascoltare e per analizzare e per che ogni persona possa leggere nella Bibbia e arrivare alla propria conclusione ma che ci sia una disposizione un'umiltà che la persona sia povera in spirito e possa dare l'opportunità di analizzare e poi credere questa persona che stava leggendo quando è arrivato Filippo dice nel verso numero 28 ora egli se ne stava ritornando e seduto sul suo carro leggeva il profeta Esaia lo spirito disse a Filippo accostati e raggiungi quel carro Filippo gli corse vicino e sentendo che leggeva il profeta Esaia gli disse comprendi ciò che leggi e quindi gli disse e come potrei se nessuno mi fa da guida questa persona era pronta per il regno decenni e non era del popolo di Israele quello che molte volte il Signore gli sgridava sgridava al popolo perché diceva nell'antichità avete creduto a Salomone la regina di Saba ha creduto a Salomone e non ero io perché il Signore Gesù era superiore Dio era superiore a Salomone e a Salomone avete creduto quelli di Ninive hanno creduto a Giona e voi che avete in me non mi credete era questo oggi quando le persone si dice lo Spirito Santo parla esiste il dono della profezia Dio parla per mezzo di sogni visioni profezie e le persone non si chiudano a questa conoscenza ma che aprano il loro cuore e si dispongano ad imparare a vedere nella Bibbia ad analizzare a seguire il Signore e a credere in questa realtà che è nella Bibbia le dice la Bibbia nel verso 31 come potrei se nessuno mi fa da guida poi pregò Filippo di salire e di sedersi accanto a lui e nel verso 35 dice che Filippo insegnò l'Evangelo e prese l'iniziativa e questa parte dell'impegno con Dio che la persona prende l'iniziativa cosa dobbiamo fare come faccio per guadagnarmi la benedizione come faccio per compiacere di più il Signore questa è la persona tipica che si sta impegnando con Dio che prende questa iniziativa e dice gli ultimi saranno i primi quelli che stanno arrivando oggi sono gli ultimi però sono persone che sono ultime che però mettono tutto il loro cuore e come se fossero i primi e sono i primi perché è tanto il fervore e la decisione come Ruth che sono decisi a ricevere la benedizione e a seguire il Signore che Dio li premia e quando dicono e che altro c'è da fare perché l'evangelizzate e le ha detto qui c'è acqua sto prendendo acqua cosa impedisce che io mi possa battezzare Filippo sicuramente gli ha parlato del battesimo in acqua e non ha aspettato che Filippo gli disse che aspetti a battezzarsi in acqua sarà che mi posso battezzare disse e così questo è il modo questo non è che noi dovete fare che siete obbligati no uno si sforza e uno cerca la benedizione e si va e va ad amare di più il Signore questo è impegnarsi con Dio e dice nel verso numero 36 mentre proseguivano il loro cammino giunsero a un luogo con dell'acqua e l'unico disse ecco dell'acqua cosa mi impedisce di essere battezzato e Filippo disse se tu credi con tutto il cuore lo puoi lo ha visto deciso e gli ha detto se tu credi con tutto il cuore credere con tutto il cuore e impegnarci con Dio credere che Dio è unipotente che per mezzo del Vangelo noi ci salveremo e lui disse io credo che Gesù è il figlio di Dio e si battezzò in acqua leggiamo un'altra parte dell'impegno che ha a che vedere con il cambiamento di vita e la liberazione quando la persona si impegna con Dio Signore insegnami e attenta alla predica attenta a quello che ci insegna la sorella Maria Luisa commetto questo errore aiutami a cambiare toglimi l'orgoglio l'egoismo sono egoista non sto pensando ai miei figli non sto pensando a mia moglie sto pensando solo a me stesso c'è egoismo nella mia vita sono ambizioso le devo lasciare questo sì voglio compiacere al Signore facendo così Dio non mi ascolta se voglio pregare Dio non mi ascolta aiutami a cambiare perché tu mi possa ascoltare togli l'ambizione togli l'orgoglio togli l'egoismo così è l'atteggiamento della persona aiutami a essere un papà responsabile aiutami ad essere un lavoratore onesto che compie i suoi doveri e dice al Signore tutte le cose perché le persone si sono impegnate con il Signore la persona stessa va togliendo dal suo cuore e Dio vede questo sforzo che fa che la persona si converta che passe da quello che era a quello che Dio vuole che sia leggiamo nel libro di Colossensi Colossensi capitolo numero 3 verso 1 dice il Signore di fare questo se veramente hanno creduto nel Signore come è successo a Leunuco che ha creduto e io voglio che mi battenzi e così con questa decisione lo stesso perché siamo liberi e crescere spiritualmente alla vita eterna e dice nel verso 1 se dunque siete risuscitati con Cristo cercate perché hanno creduto in Cristo perché si sono battezzati in acqua perché hanno seguito l'Evangelio cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio potremmo dire che sta cercando la trasformazione di questa vita che è la parte spirituale perfezionarsi e sta cercando la vita eterna come diceva il Signore all'Apostolo Paolo prendi mano della vita eterna e dice nel verso numero 5 fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra loro dovevano seppellire e far morire la fornicazione chi fornicava doveva togliere questa fornicazione dalla vita se si trovava nell'impurezza sta guardando pornografia ad esempio l'avarizia e pensieri maligni che tutto questo è idolatria l'idolatria non è solamente l'adorazione delle immagini ma anche l'egoismo essere idolatri di se stesso ad esempio e dice nel verso 8 ma ora deponete anche voi tutte queste cose ira collera cattiveria e maldicenza e le persone che credono nel Signore non parlano con parole volgari se uno usa queste parole pensa questo non lo posso fare sto perdendo punti con il Signore e così comincia a pensare la persona che si è impegnata con Dio la coscienza avvisa io non posso fare questo questo a Dio non piace ed anche dice verso 9 non mentite gli uni agli altri questo è importante è bello perché non ci può essere bugia non ci può essere inganno della persona questo è successo a una persona che ha cominciato a venire in chiesa e vedo che questa persona si sta impegnando con Dio perché lui in questo tempo aveva una necessità economica grande immaginate che per sbaglio è arrivata una lettera all'impresa ha aperto la lettera e c'era una quantità di denaro importante con questo bisogno che lui aveva in quell'epoca per aiutare la famiglia lui è stato tentato da questo che nessuno si sarebbe reso conto poteva prendere questo denaro Dio mi sta guardando e questo a uno lo aiuta lo guida molto questo per questo lo Spirito Santo ha detto ci sono tanti che si stanno impegnando con me li sto vedendo li sto ascoltando quello che dicono perché è Dio è Dio vivo e uno sempre quando si sta impegnando con Dio pensare questo che Dio ci sta vedendo ci sta ascoltando se diciamo parole oscene come diceva questa persona che era tentato di rubare questo denaro però ha iniziato a funzionare la coscienza perché lui si era impegnato con Dio perché lui vuole un cambiamento di vita e lui ha detto no no e poi ha trovato che ha detto che questo denaro era per il capo non posso dire una bugia e allora gli consegno questo denaro gli chiedo scusa per aver aperto la corrispondenza e signore anche se io ho bisogno io so che tu mi aiuterai e ha consegnato il denaro ha compiuto con Dio questa persona ha fatto la cosa corretta cosa è successo che dopo pochi giorni ha ricevuto un bonifico da parte dell'impresa e questo era per lui una benedizione per avere i soldi necessari per quello che aveva necessità e dopo pochi giorni gli hanno aumentato lo stipendio guardate fratelli come Dio è attento a tutto quello che noi facciamo Dio ci sta vedendo e ascoltando cosa facciamo come lo facciamo cosa diciamo cosa non diciamo per questo noi dobbiamo avere tanto rispetto e tanto timore di Dio e questo è il fondamento per noi avanzare alla vita eterna gloria al nome del Signore vi invito in piedi e preghiamo l'Altissimo per chiedergli che ci aiuti ad andare avanti con tutto l'impegno con un totale impegno con l'Altissimo perché siamo impegnati con il Signore ci siamo impegnati con il Signore e siamo felici di farlo che Dio ci aiuti perché ogni giorno possiamo crescere spiritualmente verso la vita eterna benedetto Signore ti adoriamo e ti amiamo ti ingrandiamo Signore e ti glorifichiamo tu sei meraviglioso tu sei buono tu sei la nostra vita sei la nostra allegria che bello impegnarci con te come non farlo se tu sei solo bontà misericordia se tu ci hai concesso tutto nella vita la felicità l'allegria la pienezza la pace la gioia la felicità questa salvezza grande i cammini della vita eterna crediamo in te nella tua esistenza che tu sei il Dio vivo i doni spirituali la manifestazione dello Spirito Santo l'Evangelo il Signore Gesù Cristo il Padre Eterno grazie Signore nella vita nuova nella trasformazione della nostra esistenza nel potere glorioso dell'alto i miracoli celestiali la liberazione divina la vita nuova la vita eterna la buona testimonianza nel tuo potere nei tuoi ordini nei tuoi mandati nella tua volontà che è perfetta e buona e gradevole che riempie l'anima che è la nostra gioia la nostra felicità la nostra maggiore benedizione è il premio per la nostra esistenza ti adoriamo Padre di bontà e ti chiediamo che in questo momento abbia misericordia di tutti i tuoi figli che ti chiedono per la loro vita spirituale che tu li liberi dalle maledizioni dagli attacchi del nemico del diavolo degli ostacoli dei pericoli di morte dei sequestri di ogni male dello spirito di malattia della malattia della morte di ogni male contro i nostri organi vitali Dio della gloria liberaci fai miracoli nei nostri corpi guarigioni oh Dio benedetto tu che sei potente in te confidiamo la salute per servirti per andare avanti con questo impegno davanti a te fino alla morte che non ci sia separazione tra noi e te Signore della gloria e che la morte stessa questo fidanzamento con te questo connubio con te che siamo in questo cielo glorioso ti adoriamo e ti chiediamo per la chiesa per la nostra sorella Maria Luisa la benedizione piena la protezione oh Dio della gloria che il tuo popolo tutto benedetto Signore il tuo sostegno il tuo aiuto grazie Signore per i miracoli e le meraviglie che ogni giorno ascoltiamo e che ci danno la motivazione e l'incentivo per impegnarci ancora di più con te nel nome del nostro Signore Gesù Cristo Amen grande e l'altissimo e cantiamo il coro numero 119 ogni dè con Cristo credo il titolo è ogni dè con Cristo coro numero 119 questo coro dice che ogni giorno con Cristo ogni dè con Cristo ci impegniamo con il Signore ogni giorno lo amiamo più e più ci impegniamo con il Signore ed è la verità ogni giorno lo amiamo di più e ogni giorno vogliamo essere migliori e dobbiamo essere migliori se ci siamo impegnati con Dio coro numero 119 ti amiamo ti amiamo Signore ti adoriamo e ti benediciamo gloria a te Signore oh Dio meraviglioso Dio buono Dio meraviglioso tu sei la nostra vita il nostro tutto il nostro amore la nostra pienezza ogni giorno Signore ti amiamo più e più gloria a te Signore benedetto il tuo nome ogni giorno con Cristo mi pieno di una perfecta paz ogni giorno con Cristo le amo più e più il me salva e guarda e sei che pronto volverà e vivi con Cristo più il me salva e guarda e sei che pronto che coro meraviglioso gloria al nome del signore benedetto il nostro dio è meraviglioso cantare i cori sentendo e comprendendo quello che cantiamo e questo è cantare con intelligenza gloria al nome del signore che dio vi benedica che dio vi conceda il meglio e a presto gloria al nome del signore